ok a questo punto io utilizzo la risposta perfetto ovviamente voglio ricordare che tutti questi schemi questi codici li troverei perfetto a questo punto vado a salvare il mio pro chart e ecco qui che viene stampata la codifica in C++ apriamo immediatamente dopo vado con il punto in virgola e vado a il magazzino giusto ricordare che cosa fa l'esercizio in realtà l'idea buona sarebbe di mettere il commento all'inizio qui mettete l'esercizio scrivi la tra il ris uguale uguale zero andiamo a vedere ok spera mi è stato compilato avete io ho premuto